E anche quest'anno non potevano mancare i miei auguri a tutti voi, ma in particolare a tutti quelli che seguono i miei canali dedicati al mondo del matrimonio, TorinoSposiWeb.com e SposiWebTV. In questo periodo natalizio vorrei rivolgere un caloroso augurio a ognuno di voi. Grazie per aver seguito le mie interviste e i video dedicati al wedding durante quest'anno. Un augurio speciale va a tutti i futuri sposi che stanno pianificando il giorno più importante della loro vita e a tutti i professionisti che hanno condiviso con noi le loro esperienze e le loro conoscenze nel settore e che qui di seguito voglio ricordare. Vi ringrazio di cuore di far parte di questa community e che le festività siano piene di gioia, amore e momenti speciali. Spero di vedervi al più presto nel nuovo anno. Ciao a tutti. Ciao Elisabetta. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ti ringrazio Fabio e salutiamo tutti quanti. Grazie, un saluto a tutti. Salutiamo a tutti quanti. Grazie a te Mauro. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Salutiamo tutti quanti. Grazie. Ciao, grazie. Buona giornata. Grazie Mauro. Allora salutiamo tutti quanti. I tuoi amici e clienti piemontesi che seguono la tua piattaforma. Piaforma e anche i calabresi. Grazie. Ciao, buon lavoro. Sono qui finalmente con Matteo Tosi. Sei venuto a trovarmi e finalmente a Torino. Finalmente a Torino, finalmente a Torino. Bellissima, bellissima. Benvenuta su nostro canale. Ciao a tutti, grazie. Ciao Laura e benvenuta sul nostro canale. Ciao Mauro, grazie mille di questa intervista. Salutiamo i nostri ascoltatori. Grazie mille. Ciao Angelo, come va? Ciao, un piacere essere qui, tutto bene. Direttore di Visite Piemonte. Benvenuto sul nostro canale. Grazie mille. Ti ritrovo qui con Stefania e Serena. Ciao, ciao Mauro, benvenuto. Ciao Mauro, benvenuto. Cercate gli archimisti. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti. Veniteci a sentire. Ciao, alla prossima allora. Ciao. Ciao e benvenuti sul nostro canale. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti, spero di essere il nostro fotografo. Un saluto a tutti quanti, agli sposi soprattutto. Prossimo Innovation Day allora. Al prossimo Innovation Day. Ciao a tutti, Mariana e Roberta e ancora. E ciao a tutti. Grazie a te Mauro. Ciao Antonio. Ciao, un saluto a tutte e a tutti. Salutiamo tutti quanti. Ciao a tutti. Ciao, buona giornata a tutti e spero di vedervi presto. Un bacio. E in bocca al lupo a tutti gli sposi, spero di vedervi. Ciao. Ciao a tutti. Tori. Grazie a voi, ciao. Marco, io ti ringrazio per il tuo contributo anche quest'anno e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Grazie mille, grazie a tutti. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori di Sposi Web TV. Grazie a tutti quanti. A Mauro, grazie di essere tornato. Grazie Mauro, grazie a tutti voi. Continuate a seguirci, continuate a seguire il canale di Mauro e ci vediamo presto. Enrico Melato. Buongiorno, buongiorno. Ciao a tutti e ci vediamo per le novità della 2024 l'anno prossimo. Chiaramente ti aspettiamo. Io ringrazio Sposi Web TV che ormai è diventata un canale che mi appartiene un pochettino. Quando vedo Mauro c'è gioia. Ci vediamo con Italo e Pierangelo Petrelli. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Il secondo anno che sono con voi, o il terzo. Salutiamo e vi aspettiamo prossimo anno. Grazie, salve a tutti. Io sono già da Gentile. Ciao Mauro, ciao a tutti ragazzi. Ho incontrato Marelisa del portale Matrimonio in Puglia. Ciao Marelisa, è venuta su questo canale. Ciao Mauro, grazie. Assolutamente, grazie. Sono orgoglioso di essere su questo canale. Grazie a te Mauro per averci scelto. Grazie, grazie. In bocca al lupo e le future coppie. Ringrazio te Mauro, ringrazio voi. Ciao Michela. Buonasera e bentrovati. Finalmente ci incontriamo dal vivo insomma, qui in Puglia. Ciao a tutti. Ciao Mauro, ciao a tutti. Ciao Mauro, è un piacere rincontrarti anche quest'anno. Ciao Mauro, ciao ragazzi. Salutare tutti quanti gli ascoltatori. Salutiamo tutti con grande affetto. Vi aspettiamo a Venezia. Viaggi di nozze con... Io sono Orkip, Alona. Ciao Mauro, è venuto sul nostro canale. Ciao a tutti. A presto quindi, vi aspettiamo a Venezia. Mauro anche tu, ti prego di tornare quando vuoi a Cassa Grecia. Grazie mille e ciao a tutti quanti. Ciao. E salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Ciao. Grazie. Sposi Web TV. Sposatevi. 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 Sposatevi.